Eeeh Eeeh Oggi ma domani ragazzi Puntata nostalgia come ci piace di solito il venerdì Puntatona Altro ospite inaspettato sullo stile di Tonio Cartogno Ma non vi dicevo niente Non te lo aspetti Ma Iconico uguale Iconico uguale E a proposito di grandi ospiti Lodovica Comello Dario Micolani E Domenica E' DJ Spine Che questa sera sembra Fabri Cazzo Ciao Fabri Aziendalista però Indossa un cappellino di un tour di 105 Praticamente è il primo che ho trovato Vabbè Chi è? Chi è? Buonasera sono Alex Ciao Alex Dove sei? Da dove sei? Da casa Sono su mio divano Ma sai perché? Perché piove oggi Non si cammina sotto la piove Meno male ragazzi camminato No 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 No